Proseguono a ritmi serrati sulla renille del lungomare San Marco della città di Agropoli le operazioni di ripascimento. I lavori consistono nel prelevare sabbia al di là della barriera soffolta tramite una pompa idrovora che poi trasferisce attraverso una tubazione galleggiante la miscela di acqua e sabbia direttamente sulla battigia. Finora sono stati prelevati oltre 30.000 metri cubi di nuova sabbia che ha consentito di allargare di circa 15 metri il tratto di spiaggia compreso tra il Lido Aurora e l'hotel Darsena. Le operazioni continueranno fino al 20 giugno senza disturbare le attività di balneazione per cercare di ottenere il medesimo ampliamento fino a Torre San Marco. Un importante lavoro che renderà ancora più spazioso ed accogliente è la renille, fanno sapere da Palazzo di Città.